Buon pomeriggio e ben trovati da Andreina Lozito in diretta dalla redazione di Telebari. In apertura torniamo a parlare della festa di Capodanno. L'opposizione in consiglio comunale chiede lumi sull'affidamento diretto della gestione della festa alla società mediaeuro LSRL senza alcun bando. Ce ne parla Serena Russo. Non si placa la polemica sull'affidamento diretto da parte dell'amministrazione cittadina dell'organizzazione della festa del Capodanno barese alla società mediaeuro SRL senza la pubblicazione di alcun bando. Di qualche giorno fa la lettera di protesta di alcuni emittenti radiofoniche locali che senza nulla eccepire sulla società in sé si sono viste privare della possibilità di collaborare al Capodanno in piazza anche a titolo gratuito come è venuto invece gli scorsi anni. La mediaeuro SRL infatti altri non è che l'azienda editrice di Controradio divenuta in maniera praticamente automatica media partner dell'evento. Ma se le radio locali come specificato nella lettera inviata al primo cittadino soprassiedono sullo strano iter burocratico seguito concentrandosi invece sulla propria automatica esclusione lo stesso non fa l'opposizione in consiglio comunale. A brevissimo infatti dalle fila della minoranza verrà inviata un'interrogazione al sindaco Michele Emiliano che chiederà l'UMI sulla mancanza di un bando che avrebbe invece consentito alle altre radio la possibilità di presentare le proprie proposte. Ma i dubbi dell'opposizione non terminano qui. Sentiamo il coordinatore Ninicea. Noi vogliamo andare a fondo sulla vicenda di fine anno e quindi di come l'amministrazione ha ritenuto di mettere in scena questa organizzazione del 31 attraverso Elio Lesteretese e avvalendosi dell'ausilio di una società che è la media Euro SRL definita leader nel settore. Mi consta che sia stato fatto un affidamento diretto e quindi non siano stati ascoltati gli altri operatori del settore e che anche le emittenti locali non siano stati assolutamente contattati. Ma noi abbiamo anche verificato in effetti che questa società qualche mese addietro, un paio di mesi fa, ha beneficiato credo di un contributo da parte del Comune per un'iniziativa che personalmente non conosco, definita parchi e ridi. Con la prima riunione dell'ufficio di Presidenza riprende oggi ufficialmente l'attività del Consiglio regionale. Un'occasione per tracciare il bilancio dell'anno appena concluso e indicare le priorità per il 2012. Il servizio di Silvia Di Pinto. 34 sedute del Consiglio, come non succedeva dal 94, 84 provvedimenti legislativi esaminati con 41 leggi approvate. Il 2011 per il Presidente del Consiglio regionale Onofrio in Trona è stato un anno di luci e ombre. Sotto i riflettori il processo di autoriforma istituzionale, con un primo importante passo sulla riduzione del numero dei consiglieri, poi la legge sulla semplificazione normativa e l'adozione del piano di rientro 2010-2012, stretta sui costi della politica con l'abolizione dei vitalizi dalla prossima legislatura e abbattimento delle spese per le emissioni fuori regione. Obiettivi prioritari per il 2012, lavorare alla modifica dello statuto e della legge elettorale, con particolare attenzione alla questione donne in giunta e in consiglio e completare l'iter per la riduzione del numero dei consiglieri. L'anno appena cominciato è anche quello che segnerà il passaggio al digitale terrestre. Necessario è dunque tutelare l'emittenza locale e poi resta da risolvere in nodo dei dipendenti retrocessi. Sentiamo le parole di Introna. Siamo impegnati nel 2012 a trovare con i parlamentari una soluzione legislativa che restituisca serenità ai lavoratori e funzionalità all'interregione. Il presidente Onofrio Introna ha annunciato che l'assessorato alla salute sta preparando un provvedimento per derogare al blocco del turnover in sanità previsto dal piano di rientro. Provvedimento necessario in vista dei numerosi pensionamenti di medici e infermieri per effetto della manovra Monti. Un vero e proprio esodo di dipendenti considerando che per il 2011 erano previsti 516 pensionamenti ed invece ce ne sono verificati 1.777. Per il 2012 invece 578 unità devono andare in pensione ma le previsioni fanno temere che andranno via 1.070 dipendenti del settore sanitario. Senza splaffonare le regioni potrà dunque far fronte all'emergenza con la deroga al blocco e quindi con nuove assunzioni. E questa mattina 100 ex dipendenti di poste italiane in presidio in corso Vittorio Emanuele hanno ottenuto un incontro con il prefetto Mario Taffaro. C'era per noi Sereno Russo. I posti italiani in questi anni non hanno mai utilizzato i classici ammortizzatori sociali classi integrazione e mobilità. Ha sempre utilizzato per abbassare il costo del lavoro il famoso esso incentivato. In maniera contattava i lavoratori che avevano una finestra e pattuiva dei soldi, dei contributi per in maniera tale di coprire questo vacanzio. Che cosa è successo? Che con il decreto Salve Italia le regole sono cambiate. Allora i lavoratori che avevano pattuito un accordo e avevano una finestra, un'aspettativa di finestra in un certo periodo di tempo oggi si ritrovano con 5-6 anni avanti senza nessun tipo di copertura né previdenziale né contributiva né salariare. Questo è il motivo del presidio degli ex dipendenti di poste italiane davanti a Palazzo della Prefettura e cominciato alle 6.30 di questa mattina. Cento lavoratori pugliesi che si sono visti cambiare le carte in tavola nel giro di pochi giorni. Dopo aver dato volontariamente dimissioni sulla base di una serie di accordi con poste italiane con il cosiddetto esodo incentivato hanno visto cambiare le condizioni in peggio a causa del nuovo sistema pensionistico presente nella manovra Salva Italia. La loro speranza è ora quella che a condizioni invariate di rientrare nel decreto mille proroghe che a brevissimo comincerà il suo iter. Tutti insieme hanno chiesto con incontro con il prefetto Tafaro e l'hanno ottenuto. Voi poco fa siete stati ascoltati dal prefetto. Il prefetto cosa vi ha risposto? Il prefetto si è impegnato a farsi la portavoce è stato molto sensibile rispetto al suo problema di questi lavoratori si è impegnato a socializzare questo problema presso il governo. Lei come sta vivendo questa situazione? Ancora oggi non vediamo un barlume di speranza sebbene il problema ci dicono da ogni parte sia al vaglio del governo Non è stato un buon inizio anno questo per voi? No assolutamente perché ci hanno messo in poche parole sulla strada si era già fatto un accordo con l'azienda per farci uscire con un incentivo economico per accompagnarci alla pensione adesso con questo nuovo governo hanno cambiato in pratica le regole del gioco a partita già iniziate. E voltiamo pagina al via oggi saldi d'inverno vediamo in questo servizio come è andata questa mattina nel centro cittadino. Saldi senza soldi ai tempi della liberalizzazione e allora orario continuato e vetrine che propongono sconti da capogiro e mentre le associazioni dei consumatori ricordano di diffidare dal meno 50% anche le grandi griff di via Sparano si adeguano ai portafogli semivuoti degli acquirenti i commercianti non parlano troppo presto per fare già un primo bilancio e questa mattina il centro murattiano incassa un discreto movimento di gente e di buste piene niente controlli né multe quest'anno per i negozi nessuno può imporre orari da rispettare almeno per ora e la Federconsumatori ricorda di conservare sempre lo scontrino anche i capi a saldo se difettosi si possono cambiare attenti ai lavanzi di magazzino e se pensate di aver beccato la cosiddetta fregatura rivolgetevi alle associazioni o ai vigili urbani. Siamo dalle 8, qua in giro abbiamo fatto colazione e poi siamo andati subito nei negozi perché alla fine comunque si risparmia parecchio. Sono andata anche sull'economico, non su qualcosa di firmato, quindi già mi sta bene così. È una presa per i frontelli perché la rimanenza che rimane, non trovi le misure, i costi, non trovi le calzate. I prezzi, oddio, sono scontati, però se vuoi la cosa bella la devi pagare e naturalmente in questo momento bisogna rinunciare. L'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Bari rende noto che avrà inizio lunedì prossimo la distribuzione di buoni libro destinati alle luni delle scuole medie di primo e secondo grado del territorio cittadino. Le scuole che hanno inviato all'assessorato gli elenchi degli studenti che ne hanno diritto potranno ritirare i buoni presso gli uffici di Via Venezia e consegnarle alle famiglie nel corso della prossima settimana. Complessivamente sono stati predisposti 6.822 buoni per un valore totale di 603.964 euro. Viva la Befana! Tra le iniziative del Natale a Bari, tre giorni di laboratori nel Parco Don Tonino Bello appoggio franco per celebrare la vecchina più amata dai bimbi. Vediamo il servizio. Carla. Tu ti chiami Carla e tu? Ilaria. E vi piace questa Befana? Carla e Ilaria sono le più piccole Befane gemelle al mondo. Nel centro polifunzionale del Parco Don Tonino Bello hanno costruito insieme agli altri bambini il grande totem della Befana con i pezzi assemblati nella tre giorni di laboratori organizzati dalle associazioni in progetto città, circoli virtuosi, cartellate, banda popolare. Un modo divertente per insegnare ai più piccoli la pratica del riuso e del riciclo che regala con un pizzico di impegno e tanta fantasia nuova vita agli oggetti. La Befana non come è vecchia e cattiva, immagine costruite intorno alla festa consumista ma raccontata attraverso i riti pagani dalle origini pre-cristiane come simbolo di fecondità e preludio alla primavera. Per te la Befana com'è? Bellissima. Come avete costruito questa Befana? Con dei pezzi di carta pesta, pezzi di tessuti, di un ombrellone, di tante cose. Noi abbiamo fatto le toppe, poi gli altri hanno fatto la mano e gli altri gli occhiali. È stata molto bella perché abbiamo fatto un lavoro tutti insieme, in compagnia. E domani grande festa con musica, sfilate e laboratori di cucina per imparare a preparare il mitico dolce della Befana. L'Amtab informa che gli abbonamenti annuali a tariffa agevolata destinati a invalidi, diversamente abili, maestri del lavoro e pensionati con basso reddito scaduti il 31 dicembre scorso sono da ritenersi utilizzabili fino a nuove disposizioni dell'azienda. Adesso diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, venti moderati con un'intensità di 9 km orari, temperature comprese tra i 10 e i 15 gradi. Prima di lasciarvi vi ricordo come sempre i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net Il telegiornale finisce qui e vi auguro un buon proseguimento di giornata.